Sono sorridente perché sono felice di essere qua a fare anche questa conferenza oggi con questa maglia, sicuramente è un motivo d'orgoglio come ho detto prima. Poi quello che può fare il Napoli, nel senso ho la consapevolezza di essere arrivato in un club che lotta per vincere. In questi anni in Italia abbiamo tolto magari la Juventus, è anche l'unica squadra in Italia che ha vinto due Coppa Italia, una Supercoppa, quindi è una squadra che va sempre in campo con l'idea di vincere. Quindi questo per me è uno stimolo e anche una voglia di mettermi alla prova in un club così importante.